Sarà la giornata delle prime volte, quelle cercate e quelle assolute. Cercherà il primo successo casalingo nel decimo turno di prima divisione il Lecce, capace di quattro risultati utili consecutivi, di due vittorie in trasferta con Lerda in panchina, ma non ancora di festeggiare tre punti alla Via del Mare. Il tentativo di rompere questo tabù lo farà contro il Viareggio, che invece celebra la prima volta di Cristiano Lucarelli da allenatore su una panchina di società professionistica, dopo averne solo annusato il profumo a Perugia in estate. Quella dei Toscani, sconfitti sette giorni fa nel derby dal Prato e ancora a secco di vittorie in casa, ma non in trasferta, è una delle due panchine cambiate in settimana. L'altro passaggio di testimone, dopo le dimissioni di Pergolizzi, è avvenuto ad Ascoli, dove arriva Bruno Giordano, i cui cinque schiaffi, rimediati proprio dal Lecce, dovranno essere dimenticati in una trasferta dal coefficiente di difficoltà medio-alto. I marchigiani, infatti, salgono a Pisa per una sfida dal passato nobile, ma che oggi serve alla squadra di casa per non perdere terreno dalla vetta della classifica e ai bianconeri per non finire avviluppati in una crisi anche tecnica dopo quella societaria. Non ci sono da gare dal pronostico segnato in questo decimo turno, anche se almeno sulla carta l'Aquila sembra avere l'impegno più agevole tra le formazioni di prima fascia. La Paganese, nonostante il successo sul Barletta di domenica scorsa, non sembra poter rappresentare un ostacolo insormontabile per gli abruzzesi, i più accreditati a poter sfruttare un eventuale passo falso della capolista Pontedera. Alla quale serviranno i gol di Grassi e Arrighini per schivare l'insidia Catanzaro, altra formazione che a proposito di prime volte domenica scorsa ha incassato la prima sconfitta a Pelugia. Insidiosa è anche la sfida casalinga del Frosinone, la più diretta inseguitrice del Pontedera contro un benevento sempre a metà strada tra le ambizioni di vertice ed un campionato anonimo da metà classifica. La stagione anomala senza retrocessioni fa perdere di interesse il confronto tra Nocerina e Gubbio, in altri contesti sarebbe stata una sfida salvezza, di fatto è solo un amichevole con il marchio della gara ufficiale.